Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Crash Royale Ragazzi miei, ho aperto delle chest ma la licitazione non è andata bene E effettivamente come potete vedere sono in Arena 5 Sono arrivato in Arena 5 finalmente, sono felicissimo di questa cosa E sono arrivato qui con questo deck che è fantastico Ovvero Frecce, Draghetto, Barbary, Tesla, Gigante con la Bomba Io lo chiamo Gigante con la Bomba però ci sta Goblin Lanciere, Moschettiere e poi il nostro bellissimo Prince È un deck molto interessante, molto carino Che può essere usato per tanti utilizzi Sia per difendersi, sia per attaccare E io lo uso principalmente per l'attacco È molto forte perché il Gigante con la Bomba leva più di 700 E unito al Prince in questo caso leva un fracco di danni Quindi ve lo consiglio, è fantastico E vi troverete davvero a fare tantissimi, tantissimi danni E salire velocemente verso l'Arena 4, l'Arena 5 in questo caso Allora, io ho da fare un paio di partite Perché voglio prendere i baule della corona Non so se ce la farò a farlo Anche perché in Arena 5 ragazzi potete sapere che farei 3 corone È davvero molto complicato Perché effettivamente non è facile proprio a livelli estremi Cioè non è che tu vai lì, fai le 3 corone e vinci facilmente No, al massimo ne fai una e poi difendi È la scelta migliore a mio parere Perché comunque si vince sempre di un piccolo vantaggio Che è soltanto una piccola corona Comunque a parte questo volevo dirvi due piccole cose Uno, vorrei fare una serie chiamata il deck dell'iscritto In cui voi vi date dei deck qui sotto in descrizione E io li andrò ad utilizzare nell'Arena 5, l'Arena 6 Nelle prossime puntate di Crash Royale Comunque in una serie proprio chiamata il deck dell'iscritto Quindi fatemi sapere nei commenti se vi piacerebbe o no questa idea E se volete che effettivamente la faccia E se volete che la faccia Scusate ditemi qui sotto nei commenti Dei deck speciali E un po' strani effettivamente Da poter utilizzare nelle nostre piccole battaglie future Oltre a questo ho visto molte persone che stanno shoppando Un sacco di gemme su Crash Royale Per aprire delle casse bonus Dovete sapere che io sono altamente contro Lo shopping nei giochi free to play Nel senso che evidentemente se puoi farlo lo fai Però io a mio parere A me la cosa non piace effettivamente Quindi non shopperò Anche se vi dovrei portare dei contenuti Vi riesco più nerdare e fare delle chest Più che aprire delle chest Che comunque si trovano semplicemente Spendendo dei soldi Tipo 40, 50, 60 euro Su un gioco che effettivamente è carino Sì lo so Però come su Crash of Lens Non vorrò spendere mai delle gemme Su un gioco free to play In cui la roba si potrà avere Solamente però aspettando un po' di tempo Beh preferisco aspettare quel tempo Più che altro Perché così mi sembra più giusto E più diciamo difficile E più una sfida per me Più che trovare comunque delle carte già facili all'inizio Quindi spero che effettivamente possiate accettare la mia idea E in ogni caso Andiamo a fare una piccola battaglia Qui in arena 5 Andiamo a fare tanto una battaglia oggi Ok contro uno di 1398 Un po' piccolino di copa Anche perché ne ho 1.500 E vediamo un attimo di fare Una tattica decente e buona Allora lui ha buttato un bel prince da quel lato Io butterò un bel scheletro gigante da questo lato E il nostro prince da questo Così andrà a difendere tranquillamente Ok E sarà abbastanza complicato Riuscire a distruggere subito il prince Speriamo che non faccia la carica Effettivamente è l'unico dubbio che mi viene all'omento Però che non ce l'ha fatta fare la carica Quindi mi ha fatto davvero poco danno E c'è quel bellissimo e fantastico gigante Che sta rompendo davvero le palle Sinceramente lì Quindi devo distruggere il più presto possibile Ok È morto Perfetto Tesla fantastico ragazzi Per difendere Fa davvero un fracco di male Quindi ve la consiglio altamente Ok ha delle carte interessanti Ha un gigante Un prince E un hog rider Più i lancieri Va bene Va bene ci sta Vediamo un attimo se mi difende o no da quel coso Dov'è buttare un attimo il barbari velocemente Merda l'ha colpito Maledizione quando i barbari non li cala subito Mi dirà davvero fastidio ragazzi Efficiente Perché dovrebbe calarli subito Però non lo fa Non sa per quale motivo Ok barbari interessanti Che andrà a calarli subito Vediamo un po' Forse mi butta il gigante a quel lato Ma non credo Vediamo un po' Ah no altri barbari C'ha pure i barbari lui Va bene Le carte interessanti Dalla parte sua Però 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 ci stanno Va bene ci sta Ok vediamo un attimo Ho buttato un sacco di carte da quel lato Dovrebbe aver buttato tipo tutto ciò che ha Tipo 7 Quindi adesso io potrei attaccare In teoria Se lui non butta i goblin lancieri lì Perfetto Come sospettavo Non aveva più mana O più elisir Perché facendo dei conti Ragazzi vedete che non c'ha più elisir E abbiamo distrutto tutto quanto Sì No quasi distrutto Perfetto Buttiamo giù quei piccoli Cosi lì Perfetto E vediamo un po' Di difenderci adesso Anche perché butterà un po' Di cose lì Vediamo un attimo Se buttiamo i goblin lancieri Da quel lato Dovrebbero fare abbastanza Tanno per distruggere tutto Vediamo un po' Se lo facciamo T7 70 Perfetto Buttiamo i nostri barbari Per difenderci Ok Barbari Difendete Tesla Quei lancieri di dietro Non ci stanno per niente Là ragazzi Sono una lottura di palle Enorme Enorme Ok Vai Tesla Vai Tesla Vai Tesla Perfetto E una distrutta Ora ci toccherà per esempio Di ragazzi difendere Per la maggior parte del tempo Se vogliamo fare Qualcosa di decente Quindi Mi parere adesso Va difesa Tutto quanto Anche perché Una corona ragazzi Ci basta Per quello che bisogna fare In sostanza Lanceri Stavolta li lancio io Lanceri Stronzo Ok Perfetto E va bene Abbiamo i nostri piccoli sgarri Che vabbè però Muoiono tranquillamente Buttiamo il nostro Scheletro gigante Da questo lato O almeno andiamo avanti E un'altra Tesla Di qua Perché questa Si sta distruggendo Ragazzi Ok Goblin Cioè il goblin Scusatemi Lo scheletro è stato Fermato lì Questa cosa Un po' Mi dà fastidio Però effettivamente Dovrei comunque Fare tantissimo danno A quel coso Adesso Andiamo se ce la facciamo Ok Perfetto L'ho vinta ragazzi Di prepotenza Suficientemente Restando in difesa Va benissimo Ok Una fatta Quasi se ne farei Anche un'altra Visto che ci siamo Abbiamo preso tipo Soltanto una corona Però è buona Per quello che bisogna fare Ragazzi Solo 20 coppe Questo è un po' Un problema Preferivo Trovere un po' Di coppe in più Varo va bene Qui sto ancora Prendo questa qui Questa cassa Del livello 5 E andiamo a fare Un'altra bellissima partita Qui vedendo un attimo Questo possiamo trovare Uno ha le mie stesse coppe Quindi forse faccio 30 coppe Se vinco Ok E vediamo un po' Vediamo un po' Come possiamo partire Possiamo partire in questo modo Si lancia sempre sulla Destra Sul lato Il prince Ragazzi Mi raccomando È importante È una tesla Va bene Non è proprio La scelta migliore A mio parere Ok Vediamo un po' Se la facciamo Ad arrivare Non ce la farò mai Però infatti Possiamo colpire Quel piccolo draghetto La E' evidente Moschettiere Ragazzi miei E hog rider Da quel lato Vabbè Sti cavoli Dovrei comunque farcela In teoria A colpire Guardate mi sembra colpire Quello hog rider M'ha levato davvero Parecchio M'ha levato Però Però noi abbiamo Un nostro piccolo moschettiere Che forse riesce A fare un po' Di danni Effettivamente a quella torre No In realtà prenderà il mago Probabilmente Perché il mago arriva prima E invece No abbiamo Quei cosi Che sono Rompipale tremendo Che sono i mini goblin Ragazzi Che poi non dovrebbero Neanche colpire In realtà Infatti non ce la fanno Ok Ok me l'ha gelata Pezzo di merda Pezzo di merda Ragazzi Mi ha gelato La cosa Lì E non credo Niuscire nemmeno A attaccare Quel cosa Effettivamente Anche perché Ora mi butterà Altre carte Però Vediamo un po' Se ce la fa No non ce la fa Forse Ok Un po' di danni L'abbiamo fatti Ragazzi Ma quella Gelo Oh mio dio Quante rottura di palle Soprattutto con gli hog rider Eh però Potevo usare Prima con gli hog rider Forse non ce l'aveva Prima con gli hog rider Ok Pograda Vai via Ok Pistiamolo con i nostri lancieri Vedete i lancieri Sono fantastici Per difendersi Dall'og rider Però mi ha fatto Comunque tanto tanto male Vediamo un po' Se quel moschettere Fa un po' di danni A quella torre Dove farne un altro colpo Un altro colpo Ok siamo a un minuto Ragazzi miei E va bene Ora ha buttato Quella cosa più a sinistra Quindi Forse riusciamo In qualche modo A difenderci Mmm Ok Non è Gran che facile Fare questa difesa Ma pure gelato Che merda che è ragazzi Mi sa che questa La perdiamo effettivamente Perché Eh 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 È un bel problema Dobbiamo in qualche modo Lanciare roba qua Vediamo un po' Se facciamo questi Perfetto Ma è detta gelo Sì vabbè Due maghe Vedete ragazzi I maghi quanto fanno male Per quello Vorrei utilizzare A posto del draghetto Il mago Che a mio parere Leva molto di più E fa davvero Tanto tanto male La smetti di attaccare Stupido Mago di merda Ok Non ce la farò mai Ad arrivare lì Ovviamente Eh Pure se butto quelle frecce Non ce la farò ad attaccare Vediamo un po' Ce la facciamo Niente Niente ragazzi Abbiamo finito In perdita Perché effettivamente Ci ha fregato tantissimo Quella gelo Quella gelo Fa davvero dei miracoli Gelo Og Ragazzi Lo ho visto usare Da tantissime persone Ma io non ho la gelo Quindi non lo posso usare Ho preso 30 coppe Di nuovo Non ho preso 30 Questa cosa non è bella Però fa nulla Ragazzi Direi che per questo video Potrebbe essere anche tutto Noi ci vediamo presto Con una nuova puntata Di Crash Royale Fatemi sapere nei commenti Quindi cosa ne pensate Del deck Dell'iscritto E di quale potrebbe essere Molto carino da fare Da Alizio è tutto Ciao ciao E al prossimo video Ciao ciao